...tuo parere su Expo. Così tu vuoi fare domande a me o le faccio a te? Così impari, vai! Allora, salve a tutti, sono Roberta Buonattes di Agon Channel Italia, perché esistono due canali in Albania e a Tirana. Io vivo attualmente a Tirana e ci occupiamo quindi dell'Italia sul canale italiano, sul 31 digitale terrestre. Invece poi ci sono i colleghi che convivono insieme a noi in redazione albanesi e si occupano del canale Agon Channel Albania. Ho l'operatore albanese, ma io sto badando di quella parezza. Per quanto riguarda i contenuti sto intervistando l'eccellenza italiana, per cui tutto rimesso nelle mani di chi mi parla dell'alta ricina italiana e quindi sono grandi nomi che ci vengono a trovare. Per cui, insomma, è vero che bisogna dar facilità a loro e pagare almeno 50 euro o un minimo di 35 euro per mangiare i loro piatti, però magari i loro consigli preziosi vale la pena. Tutto il resto ho fidato all'immagine perché è il quinto il sesto giorno di Expo, avevate ragione anche voi, però bisogna andare a cercare le cose, cioè bisogna anche un po' camminarsi, andare più in fondo, cercare solo food. E sulla viabilità do ragione proprio che, insomma, è vero che non conoscevo il pullman che percorriva il perimetro intorno. Grazie.